Mentre a sinistra si occupano di immigrati, di USOI e di DLZAN, per me vengono prima gli italiani e il lavoro degli italiani. La salute degli italiani, la sicurezza degli italiani e quindi il 3 ottobre anche a Pianciano come in altri 30 comuni fra Siena ed Arezzo si sceglierà un nuovo parlamentare, però io ricordo e ci metto 30 secondi e poi non la faccio lunga e ascolto volentieri voi, stringo due mani e faccio due foto, però tenete presente il perché ci sono migliaia di cittadini fra Siena e Arezzo che il 3 ottobre vanno a votare, ve lo dico io in 30 secondi perché la televisione non penso l'abbia mai raccontato, però tenete presente che si va a votare per l'elege parlamentare di Siena perché si è dimesso quello che era stato eletto parlamentare di Siena. Chi è che si è dimesso? Fu eletto a Siena per il dirì il professor Padua che prima era ministro dell'economia. Da ministro dell'economia diede un bel po' di miliardi di denaro pubblico alla banca di Siena. Prima dal denaro pubblico alla banca di Siena, poi si cambia da Siena, viene eletto a Siena, poi a un certo punto si mette da Siena. Perché? Perché diventa presidente di una banca, quindi molla il posto a cui l'aveva eletto per andare a fare presidente di una banca, Unicredit. E queste state cosa sappiamo? Che c'è una banca che sta trattando per comprarsi il monte dei passi di Siena. E sapete qual è questa banca che sta trattando per comprarsi il monte dei passi di Siena? Unicredit. Che è la banca per cui è diventato presidente l'ex ministro del PD, eletto a Siena, rimuola a Siena per andare a fare il presidente della banca, che adesso sta trattando per comprarsi la banca dei senesi. Ma sarebbe un acquisto un po' strano, perché sarebbe uno dei pochi acquisti al mondo in cui chi compra, quindi in questo caso Unicredit, che compra la banca di Siena, invece di pagare per comprare la banca, viene pagato 5 miliardi di euro pubblici per portarsi a casa una banca, che non è una banca. è la banca più antica del mondo. Quindi la Lega ha candidato un senese e non un pisano a Siena per dire che per noi ogni posto di lavoro del monte dei passi di Siena è sacro e non si tocca. Non si sveglia la storia di Siena, il risparmio di Siena. Bravo! 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 Guarda, guarda, come se non fosse a sinistra, forse l'elocazione di svendita del monte passi a Unicredit rischiano di saltare 6 o 7 mila posti di lavoro. 6 o 7 mila posti di lavoro. Sì, da quanti anni fa? 7 mila. 7 mila. Ecco, calcola che con una firmetta abballata dai signori del PD, dalla sera alla mattina una città come Chianciano, piena di lavoratori e lavoratrici, sparisce. Ma nel momento del Covid, mi pare normale cancellare con un tratto di penna migliaia di posti di lavoro. No, per me il lavoro è sacro e ve lo dico già adesso per l'inverno, se lo stesso PD diventa che si candida qua e a Giallo e a Siena vorrà cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero, noi faremo le imparicate perché alla legge Fornero non si scorda. Perché con le pensioni non si spesa. Con gli uomini con le pensioni non si spesa. Piuttosto andiamo a togliere il reddito di cittadinanza ai troppi furbenti che prendono il reddito di cittadinanza. E' questo, non la faccio lunga, è un bel lunedì, è il primo lunedì di scuola per tanti bimbi, tante bimbe, tanti ragazzi e quindi da papà sono felice che si torni alla scuola in presenza e ringrazio maestri e maestre che fanno un lavoro straordinario e quindi noi di questo ci occupiamo, scuola, salute, lavoro, difesa dei posti di lavoro, difesa delle pensioni e anche, permettetemi la chiusura, sicurezza. La sicurezza, a sinistra dicono, ma Salvini c'ha il capriccio della sicurezza, c'ha il pallino della sicurezza. No, io non c'ho il pallino, io c'ho il pallino che stiano bene i miei figli. Però quando leggi, come hai detto sabato, che un richiedente asilo sale sull'autobus a Rimini e gli chiedono il biglietto due ragazze che fanno il controllore, gli chiedono il biglietto e se a voi chiedono il biglietto, se a me chiedono il biglietto, cosa parte? Tira fuori il biglietto. No, questo tizio che è arrivato dall'Aprica, che è entrato in Italia, invece del biglietto tira fuori il coltello e accoltella le due lavoratrici, poi scende dall'autobus e accoltella altre tre persone, fra cui un bimbo di sei anni che è ancora ricoverato. Quindi questo a Rimini, che era a Rimini e a spese nostre, ne accoltella cinque. L'altro a Napoli, altro clandestino pregiudicato, accoltella una signora per rubarne la borsetta. Quell'altro marocchino pregiudicato a Spezia aggredisce una turista di 24 anni cercando di stuprarla. Ecco, non è il capriccio di Sabini. Gli immigrati per bene sono i benvenuti, ma migliaia di valori di clandestini devono tornarsi da casa loro da più al mondo. E se abitate in questi 35 comuni, noi possiamo contare solo su di voi. Noi soldi non abbiamo pochi, banche non abbiamo, televisioni non abbiamo, sindacati non abbiamo. Però abbiamo voi, donne e uomini liberi, che non sono a contratto di qualcuno, il 3 ottobre si vota. Il 3 ottobre 100 mila persone a Siena e dintorni possono scrivere la storia. Perché mi dico da fatto, ha detto tanto io qua, chiunque candidi viene eletto anche se non è di Siena, candido un marziano, candido una pianta grassa, candido un cagnolino, tanto quelli di Siena lo votano a sinistra solo perché sono di sinistra e quindi chi hanno candidato? Il segretario del PD, anche se non c'entra nulla con Siena. Noi a Siena abbiamo candidato una partita IVA di Siena, uno che crea lavoro e ricchezza a Siena, uno che produce vino a Siena. Mi date una mano da qui al 3 ottobre che manca 20 giorni a svegliare i senesi che dicono io non voto perché manco lo so che qua si può fare una pagina di storia. anche perché chiudo, letta, sicuro di vincere, dicendo tanto lì abbia sempre vinto noi, figurati se cambiano, ha detto se io perdo torno a Parigi. Mi date una mano fa lo torno al medico...